Io credo che sia un bruttissimo capitolo della storia parlamentare perché si trattava di riconoscere dei diritti, non si trattava di togliere qualcosa a qualcuno e si trattava di riconoscere delle tutele. Il fatto che il Parlamento non sia riuscito a compiere questo passo è uno di quei momenti in cui le istituzioni si allontanano dai cittadini e dai bisogni reali della società.